Quando la volontà prevale su tutto, abbattendo le barriere architettoniche e realizzando un prodotto unico, davvero di rara bellezza. Questo è lo spirito di Stella, il primo catamarano al mondo senza barriere. Attraccato a Porto San Giorgio, presso la base nautica di Liberi nel Vento, l'associazione che dal 2002 è in prima linea nella promozione della vela paralimpica. Una barca ideata dopo una tragica disavventura, quella che colpì un ragazzo, allora 25enne, Andrea Stella, che nel tentativo di evitare a Miami il furto della sua autovettura fu colpito da una raffica di proiettili che lo hanno costretto sulla sedia a rotelle. Da quel momento prese corpo il progetto di un'imbarcazione innovativa che ci illustra il giovanissimo comandante Stefano Locci, 31 anni, che ha totalmente condiviso il messaggio dello spirito di Stella. Non esistevano barche accessibili all'epoca, quindi ha pensato di costruirne una. Ecco qui abbiamo una barca che è completamente accessibile alle persone con disabilità motoria e vuole un po' rappresentare quello che è il concetto della barca per tutti, nel senso che la barca è accessibile alle persone disabili ma risulta poi molto più comoda, una barca poi migliore per tutti. Qual è il messaggio dello spirito di Stella? Lo spirito di Stella promuove i diritti delle persone con disabilità, quindi il fatto di avere degli spazi accessibili a tutti, porta avanti un po' il messaggio e la provocazione per cui se si può costruire una barca accessibile probabilmente si può costruire una città accessibile, mezzi pubblici, edifici, quindi permettere alle persone disabili di avere una vita normale. Poi state un po' solcando il mar Mediterraneo e diversi porti proprio con questo messaggio, no? Sì, quest'anno, con il progetto di quest'anno che si chiama WOW, che è l'acronimo di Wilson Waves, ruote sulle onde, stiamo facendo un giro d'Italia dove ci fermeremo per un totale di 16 città italiane, dove ci fermeremo da 4 a 9 giorni a fare attività giornaliere, quindi a portare persone che hanno fatto richiesta e associazioni che lavorano con la disabilità gratuitamente, quindi offriamo una giornata di mare gratuita a chi lo desidera e vuole provare questa esperienza. Certo, certo che il mare è davvero per tutti. Esattamente. Stefano, passiamo ad illustrare nel dettaglio le caratteristiche proprio prioritarie di questa barca, dello spirito di stella. Sì, l'accessibilità comincia dall'accesso della barca, potete vedere questa passerella che, perché ha avuto esperienza di accedere su imbarcazioni spesso, la passerella è molto stretta e diventa molto scomoda per tutto. Qui invece è stata creata una passerella larga 90 cm con un buon tientibene che permette l'accesso alle carrozzine ma anche a tutti coloro che magari non sono più degli atleti o non si fidano molto delle proprie capacità. Esattamente. Il pozzetto, la parte esterna dell'imbarcazione è tutta su un piano unico, sono stati creati tutti gli spazi necessari per permettere alle persone in carrozzina di muoversi comodamente. Si può vedere anche quello che è uno standing, quell'attrezzo a fianco al timone di destra che permette Andrea che quando a bordo porta a lui la barca in completa autonomia, lui riesce a mettersi in piedi con un cinturone che lo tiene in piedi. Tutte le manovre sono riportate a poppa, quindi i winci, i vericelli sono anche a altezza per chi è seduto. Vedremo poi all'interno come è stata organizzata e pensata l'imbarcazione. I tanti presenti alla conferenza stampa sono rimasti quasi stupiti della straordinaria funzionalità di questo catamarano che riesce davvero a dare l'idea della totale normalità nel nome dei diritti delle persone con disabilità. Normalmente può ospitare otto persone ma si può arrivare sino a sedici, sempre divulgando il messaggio che abbattere le barriere si può, basta volerlo. Siamo all'interno di questa imbarcazione dello Spirito di Stella con la past president dell'associazione italiana Sclerosi Multipla, Roberta Amadeo, che ha, diciamo così, toccato con mano le caratteristiche di questa imbarcazione particolarissima e le chiediamo ovviamente una prima sensazione, una prima impressione a bordo. L'impressione è spettacolare, io sono arrivata stamattina, ho viaggiato di notte, ho detto vado in bagno, il bar non era accessibile, arrivo in barca ed è tutto accessibile, questa è la cosa che è stupefacente, no? Perché poi sembrerebbe che sia uno spazio così un po' riservato, dedicato a irraggiungibile, invece no, basta volerlo come si dice, no? E poi si affrontano tutte, si abbattono tutte le barriere, c'è la possibilità di fare davvero tutto quello che fanno gli altri, quindi questo è quello che... la sensazione che ho avuto è proprio questa, no? Quella di assoluta libertà nello spazio, nel movimento e nelle azioni quotidiane. Diciamo che è la dimostrazione pratica di come volendo le cose si possono fare, no? Anche in condizioni magari un pochino più difficili. Assolutamente sì, questo proprio è la vera scommessa vinta, no? Che poi uno pensa sempre di dover aver bisogno di spazi enormi, larghi, eccetera, no? Quindi magari non si rendono accessibili le strutture proprio per questo, perché si dice che non c'è lo spazio sufficiente. Beh, se c'è lo spazio qui per viverci, almeno sicuramente ci possono stare anche quattro carrozzine, persone in carrozzina quindi con due stanze accessibili, due cabine accessibili, quindi voglio dire non è una questione di spazio, è una questione di testa. Roberta, l'Aism ha scelto convintamente, no? Di essere vicina a questo progetto? Sì, sicuramente, perché è un progetto che abbiamo sentito da subito nostro, perché l'idea di libertà, che poi è scritto anche nel nostro logo, no? Un mondo libero dalla sclerosi multipla, un mondo libero dalla paura della sclerosi multipla, un mondo libero dalla paura di non poter fare quello che si vuole. Questo sposa veramente quello che è lo spirito di Stella. Abbiamo scelto di festeggiare con lo spirito di Stella alcune tappe del nostro cinquantesimo, perché quest'anno Aism fa 50 anni, 50 anni di battaglie, di lotte, di alcune vinte, altre magari perse, però sicuramente tutte combattute esattamente con lo stesso spirito che è quello di Stella, di Andrea, che è riuscito a costruire questo e noi vogliamo viverlo con lui. La vela d'altronde, lo abbiamo ricordato altre volte, è una disciplina che si presta particolarmente alla pratica di persone diversamente abili. Grazie anche alla collaborazione con Zero Gradini si è avuta l'opportunità di visitare lo spirito di Stella ed effettuare delle uscite in mare. Comandante della Capitaneria di Porto, Ciro Petronelli, un'occhiata, una sensazione su questa imbarcazione unica, particolarissima, senza barriere architettoniche, praticamente come detto un unicum nel suo genere. Davvero un'imbarcazione unica nel suo genere, di eccezionale innovazione tecnologica, che consente quindi di vivere delle esperienze uniche in mare, delle emozioni a tutti quanti, senza nessuna differenza. Liberi nel Vento è sempre piena di iniziative, anche speciali e particolari come questa. Assolutamente, io sono molto contento di ospitare qui in Porto lo spirito di Stella e per questo dobbiamo ringraziare innanzitutto l'associazione Liberi nel Vento, perché senza la loro collaborazione, la sinergia e soprattutto la logistica che mette in campo non sarebbe stato possibile. È una barca veramente particolare, è stupenda, basta vederla, chi ha la fortuna di essere qui questa mattina può notare l'imponenza della barca e la struttura come è veramente costruita è impostata, è impostata per essere utilizzata da chi è meno fortunato di noi e nelle stesse condizioni in cui può utilizzarla una persona normodotata, quindi non ha minimamente barriere architettoniche all'interno di una barca a vela, che questo è penso una delle cose più difficili in assoluto da poter ottenere e questo è l'esempio vivente diciamo della totalità di abbattimento delle barriere architettoniche. 2018 molto intenso, vediamo che le iniziative ce ne saranno parecchie. Sì, noi con i Liberi nel Vento, con Daniele abbiamo avuto sempre un rapporto unico, è una nostra costola diciamo della Lega Navale di Porto San Giorgio, siamo sempre in collaborazione, sempre insieme per qualsiasi manifestazione che si viene organizzando, siamo un tutt'uno diciamo. Vincenzo Cracciotti è il presidente della decima zona della federazione italiana a vela, da esperto le chiedo se aveva mai ammirato un'imbarcazione del genere dove veramente ci sono condizioni di piena normalità anche per diversamente abili. Guarda, io la barca la conoscevo perché il progetto è ormai qualche anno che gira per l'Italia, quindi è conosciuto. Non avevo mai visto la barca dal vero e devo dire che è una cosa eccezionale l'impegno profuso nel fare un progetto di questo genere secondo me è stato premiato. Luca Savoiardi, presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marche, io direi che questa è la dimostrazione che quando poi le cose veramente si vogliono fare si possono fare, perché questa è un'imbarcazione che dà condizioni di normalità davvero anche per diversamente abili. esatto, questo è un esempio a mio avviso eclatante e da pubblicizzare il più possibile in quanto secondo a mio avviso racchiude il concetto di integrazione e di come dicivi tu di volontà nel senso che una disciplina come la vela, quale anni fa era impensabile che una persona con disabilità potesse praticare questo tipo di attività, oggi vediamo che appunto abbiamo una barca eccezionale con tutti i comfort, con accessibilissima a tutti le vari tipi di disabilità e naturalmente questa barca esprime anche il concetto di uguaglianza e di integrazione in quanto appunto in questa barca possono stare sia persone non modotate e persone con disabilità. Nel panorama sindaco dell'associazionismo cittadino cosa rappresenta Liberi nel Vento che forse è un posto particolarissimo? Rappresenta la storia, una storia recente, una storia che nasce nel 2002 ma che fonda le radici in una storia che è quella di Porto San Giorgio fatta di accoglienza, di solidarietà che ha sviluppato negli ultimi anni anche la cultura dell'accessibilità degli spazi, dei luoghi nello sport e nella fruibilità della città tutta, per cui non è fenomeno di un momento, non sono iniziative estemporanee ma sono il risultato di una cultura che anche come amministrazione comunale stiamo cercando di diffondere già da qualche anno con iniziative sia strutturali di abbattimento di barriere sia culturali cercando di appunto diffondere il valore dell'accessibilità dei luoghi e della convenzione ONU sui diritti della disabilità. Presente alla conferenza stampa anche l'assessore all'urbanistica del comune di Fermo, Francesco Nunzi, che come professionista è stato da sempre vicino all'associazione Liberi nel Vento e l'assessore allo sport del comune di Porto San Giorgio, Valerio Vesprini. Con Fabrizio Ortenzi invece l'occasione anche per presentare il calendario dell'attività 2018 della Liberi nel Vento, con il clou del trofeo Sandro Ricci dal 5 all'8 luglio con persone disabili e normodotate che gareggeranno alla pari con un'unica gradatoria. La nostra associazione è una realtà sul territorio che lavora per mettere in acqua ragazzi con disabilità, fanno di fare questo sport meraviglioso che è la vela e quindi siamo in questo impegnati ma lo siamo da tantissimi anni, l'assessore esiste da 12 anni e questa è la dodicesima edizione che vado a presentare del trofeo Sandro Ricci, abbinato al trofeo Rotary di Fermo. Facciamo questa manifestazione con le barche nostre, le barche 2.4 che vedete qui alle mie spalle. Quest'anno per la prima volta facciamo anche una regata abbinata insieme a questa regata qui con un'altra barche, l'Anza 303, che è una barche per degli atleti più piccoli quindi ci siamo impegnati a mettere in acqua dei ragazzini più giovani, ragazzi in donne 9, 10, 12 anni, portatori di handicap e dare anche loro la possibilità di essere in mare di fare questo sport. L'esperienza è bellissima, è entusiasmante, ci tengo a dire, forse sono ripetitivo in questo chi mi sente, che questa è l'unica barca, l'unico sport che permette di regatare alla pari un ragazzo disabile e un ragazzo non moltato. Pensate voi che la classifica finale che andranno a stilare sarà paritaria, cioè non farà distinguo fra portatore di handicap e persona norma dotata. Forse è veramente una cosa unica nel panorama sportivo. Sì, è una cosa unica. In questa occasione abbiamo anche un meeting sostenuto dalla Federazione Italiana Vela in cui gli atleti incontreranno gli struttori tecnici federali nei giorni precedenti alla regata e quindi sarà questo clinic prima molto interessante e molto affascinante. noi siamo sempre costantemente impegnati su questa storia e speriamo che anche quest'anno la nostra manifestazione sia veramente a livello delle precedenti che sono state sempre ben riuscite. Ciao! Ciao!